Succede che due uomini politici di prima fila, Efialte e il suo alleato più giovane Pericle, fanno passare una riforma politica importantissima che toglie quasi tutto il potere all'areopago, cioè a un organo di cooptazione, un tribunale aristocratico che dominava la città soprattutto dopo le guerre persiane e passa i poteri dell'areopago ai tribunali popolari. Questa riforma, detta appunto la riforma di Efialte, cambia la natura della democrazia ateniese, trasportando il baricentro dall'areopago aristocratico ai tribunali fatti di cittadini scelti a caso da una lista di 6 mila volontari. Cosa accade subito dopo? Efialte viene ucciso, non si è mai saputo il vero responsabile. Sta di fatto che scomparso Efialte giganteggia Pericle. Pericle diventa il capo riconosciuto della parte popolare. Pericle diventa il capo riconosciuto della parte popolare.